Un saluto da Dottor Palmas, dalla Moldavia e anche dalla Romania, dipende dove mi trovo con l'equip, delle volte ci diamo appuntamento a Chisina, delle volte a Bucharest, siamo sempre in movimento tra questi tre policlinici che curano pazienti che hanno perduto tutti i denti per errori medici, ed è quello di cui parliamo oggi, piorrea, il motivo per cui alcuni perdono i denti e poi fanno anche l'errore medico, oppure pazienti che per incidenti stradali perdono i denti, quindi altri motivi metabolici, sindromi, pazienti che non riescono per anni a pulire i denti, pazienti con trisomia 21, down, anche quelli sono motivi per cui si perdono i denti, però se non stai attento c'è il rischio che capiti nelle mani di qualche furbeto che ti fa le cose che non devono essere fatte, e proprio oggi parlavamo di questo, ovvero i denti che vengono incollati su impianti, ma ce ne sono tante altre cose che non vanno fatte, come in tutti i mestieri, come in tutte le professioni, tu puoi fare le cose fatte bene oppure fatte male, il più delle volte quando le fai fatte male è o perché non le sai fare, o perché ti conviene farle male, o perché c'è un impedimento oggettivo a poterle fare bene, però se le cose le puoi fare bene non ha senso farle male, se le fai male delle volte c'è il dolo, nel senso che lo fai perché o vuoi fare un preventivo più basso e non vuoi che il paziente vada da un altro, oppure perché c'è il dolo perché vuoi tu risparmiare i soldi, cioè non è che il preventivo è più basso, magari il preventivo è anche alto, però tu non vuoi spendere troppi soldi, allora cerchi di abbattere i tuoi costi facendo le cose che non vanno fatte, che però ti costano di meno. Oggi parliamo di questo, partendo da un aneddoto, voi ci siete sul gruppo, se non ci siete, iscrivetevi, si chiama Riabilitazioni Estreme della Bocca, se vuoi Vasile puoi anche far vedere quello che è il gruppo, è un gruppo dove ci sono dentro gran parte dei pazienti che abbiamo curato, perché l'abbiamo fatto questo gruppo? Perché non c'è la garanzia quando ti curi all'estero, l'unica garanzia è di creare un gruppo consumatori che mette il coltello nella parte del manico dei clienti, dei pazienti, la nostra reputazione la decidono nei pazienti, sia con le recensioni che anche con quello che si dice si scrive su questo gruppo pubblico dove tutti possono scrivere. Le uniche cose che vengono censurate in questo gruppo sono le cose che mettono a rischio o l'informazione corretta, per esempio quello che inizia a dire no per andare lì servono questi, questi documenti, non è vero, quelli sono i documenti che servivano a febbraio, ma oggi siamo a settembre, oppure quelli che dicono quando partono e poi gli entrano i ladri in casa, perché scrive su internet quando sta all'estero, però l'informazione è libera, chiaramente ci sono anche non pazienti sul gruppo, uno di questi scrive fondamentalmente ma perché andate a curarvi non da Palmas all'estero, quando ci sono anche delle soluzioni per esempio in Italia che ti permettono di avere gli stessi prezzi o simili, non capisco perché dover andare fuori, fare i viaggi e mettersi insomma tutto questo fardello in testa di dover viaggiare, prendere aereo eccetera, no? E dice guarda in Italia pure lo fanno due arcate con 8 mila euro, lavori garantiti, professionisti che fanno con la comodità per qualsiasi problematica, due passi da casa, la mia domanda è ne vale la pena andare e venire anche dalla Croazia e non solo dalla Moldavia, lo estendiamo a questo discorso, dove è la differenza per un problemino? Ovviamente se devi tornare in Moldavia per i problemini dove è la convenienza? Dopo gli abbiamo risposto, attenzione guarda che io so chi è che fa quei prezzi in Italia, perché curiamo molti pazienti, tra questi pazienti arrivano anche quelli curati male e so che quei prezzi li fanno là, in queste due realtà, e gli abbiamo risposto dicendoli, speriamo che non sia quella clinica lì, in quel paesino lì, ok? Non so se vedete, ok? È un paesino che sta lì, non diciamo dove, se no poi ci dicono, ah, state, come dire, diffamando tutti i dentisti di quella città, no? È quella città lì, non la diremmo, non ci interessa quella realtà lì, noi ci interessa parlare del fenomeno, cioè che delle volte nelle nazioni è possibile fare prezzi concorrenziali, perché, abbiamo detto, bisogna stare attenti che lì ti mettono i denti incollati sopra gli impianti, propongono di risparmiare tornando a casa senza i provvisori, certo non ti metti i provvisori, il preventivo è più basso, però il problema è che quando non metti i provvisori gli impianti non iniziano a lavorare e se non iniziano a lavorare e c'hai gli impianti nell'osso e ci sbatte il cibo sulla gengiva, l'osso si riassorbe e c'hai che il paletto viene fuori dalla sabbia, quando poi metti i denti definitivi c'hai che qui in mezzo si incastra il cibo, invece quando metti subito i denti e quelli iniziano a lavorare, le cellule vicino si trasformano in osso, nel punto di frattura, per quello c'è anche il principio in fisioterapia che appena ti tolgono il gesso subito con la fisioterapia, se no se stai così c'hai problemi dopo, se non metti subito in funzione il punto di frattura, metterlo in funzione il punto di frattura invece aiuta la frattura a rimarginarsi prima e se tu non metti i provvisori quindi c'hai che in realtà poi gli crea un problema, quegli impianti poi vanno svitati e va rifatto l'intervento, oltre che non mettono i denti avvitati, siccome noi sappiamo che sul gruppo ci sono pazienti che partono da una scolarizzazione differente, ci sono quelli molto formati come voi, quelli che entrano che sono meno informati, che non hanno fatto un ciclo di formazione, gli mancano le elementari, le medie, allora gli diamo delle informazioni, dei video che gli esplicano il dettaglio del perché quelle cose non vanno fatte così. Poi ci scrive in privato, sempre questa persona, poi ci contatta insomma e ci dice che questa clinica in realtà è proprio di quel paese lì e gli ho detto guarda la cosa migliore che puoi fare intanto non è denunciare il dentista perché tanto per rifarmi al fatto del risarcimento, non conviene mai risarcimento in odontoiatria, conviene risolvere il problema, è talmente basso il risarcimento, al massimo che risarciscono non sono 20 mila Euro, ma 20 mila Euro non ci fai nulla, ormai c'è il danno biologico in bocca, in più quello non ti ci mette in mano, non te li tira, l'unica cosa che puoi fare invece è quello di dire risolviamo il problema, se questo è meglio non andare avanti, dai indietro i soldi e li faccio da un'altra parte e trovare, infatti qua noi ne facciamo tanti di pazienti che sono stati resi i soldi indietro dall'altro dentista e facciamo le cose come vanno fatte. Il problema e gli ho detto, per fortuna è ancora solo con i provvisori questo paziente, gli ho detto se tu vuoi vedere se ti stanno facendo i denti incollati basta che vai sulla pagina Facebook, sulla loro pagina Facebook e guardi un attimo quelle che sono le fotografie. Nella pagina Facebook molti dentisti di questi che sono, ripeto non è l'obiettivo fare i nomi, oggi sono loro, domani sono altre cliniche, non è quello, è importante istruire invece col video il paziente su come capire dove conviene curarsi e dove invece lasciar perdere. Se tu vedi nella pagina Facebook che dalle gengive escono dei perni come questi, ok come questi qua sopra, allora è probabile, è sicuro che ti devono incollare i denti, ok perché dalle gengive praticamente cosa succede? Fai uscire dei paletti sui quali poi incolli dei denti. Però in poche parole quando tu metti, supponiamo che questo è l'osso del paziente e io vado a mettere degli impianti nell'osso, quindi delle viti, queste viti esistono di due tipi, o viti che all'interno hanno un foro sul quale poi sopra si avvita un piattello, ci sarà poi qui sopra una vitina piccolina che in questa filettatura va a stringere questa componente con l'impianto. Qui sopra poi ci saranno che cosa? I denti che hanno un foro dove entra la vitina, la vitina a sua volta entra qua e stringe questo piattello all'impianto. Questo è il modo corretto di fare i denti perché manca che cosa? La colla, il cemento. Non ci sono sostanze chimiche che uniscono le parti ma ci sono pezzi meccanici che li uniscono. Ci sono invece i primi impianti che sono stati fatti anni fa, che sono gli impianti monofasici, che vi faccio vedere a monitor, che erano praticamente una vite tutt'uno con il pezzo dove sopra poi veniva messo il dente. Questo è un impianto monofasico, è come una vite da legno dove esce fuori un pezzo, la gengiva praticamente arriva fino a qua e qui sopra si incolla il dente. Questi venivano usati negli anni 80, tantissimo, tanti in Italia, non sono proibiti, non sono viettati ma è un modo di mettere i denti questo che non va bene perché poi ti ritrovi che questo pezzo unico, questa vite, sopra ci devi mettere il dente ma qui in mezzo ci sarà colla, cemento. E c'hai due tipi di colle, o quella a lunga durata o a quella a breve durata, altre non ce ne sono. Se tu metti quella a breve durata ti si staccano sempre i denti, se tu invece metti quella a lunga durata, se poi si scheggia il dentino e io devo smontare la ruota per cambiare la gomma, non la posso togliere perché il cerchione incolla, anzi è un tutt'uno il cerchione con l'asse. Poi hanno inventato, siccome questi impianti erano troppo morbidi perché dovevano poi questi essere piegati, data la direzione corretta soprattutto quando hai più impianti, hanno inventato quelli bifasici però sempre con dei perni sopra per incollare i denti. Ok, questi hanno un forino che si svita. Se tu vuoi mettere i denti incollati su questo devi però far uscire dalla gengiva questo. Diciamo che questi sono stati quelli di prima generazione, seconda e questi sono quelli di ultima generazione. Perché li hanno fatti quelli di ultima generazione? Perché vanno a risolvere i problemi della prima e della seconda, se no non cambi le cose, se la ruota funziona non inventi il triangolo o il quadrato, la ruota funziona in rotonda. Questi impianti se tu vai a vedere su internet li riconosci perché escono i perni dalle gengive. Vedi che escono i perni dalle gengive. Se io invece vado a vedere una dentatura, per esempio come quelle nostre, andiamo sulla pagina del nostro laboratorio col marchio locale, quello che lavora, il laboratorio che lavora anche con le cliniche in Romania. Vado sulle foto. Ecco qua come sono fatti. Praticamente le protesi hanno dei piattelli vediamo qua una foto che lo fa. Ecco qua, questa si vede bene. Hanno dei piattelli, delle doccette che si poggiano su un piattello a sua volta. Per quale motivo? Perché gli impianti, quando noi li mettiamo nell'osso, non sono tutti paralleli. Abbiamo impianti che si mettono dove c'è l'osso, dove l'osso è rimasto. Se l'osso sta qua, lo devo mettere qua l'impianto. Se sta qui, lo devo mettere qui e indietro, perché l'osso è andato indietro. Il problema è che come fai tu a unire due impianti tra di loro? Ok, fai un ponte. Se hanno questa direzione cosa fai? O metti un dente qua e uno qua, oppure se li vuoi unire non c'è modo perché sono divergenti. Se invece ho tre rete e sono tutte divergenti tra loro, si dice sghembe. Non so se conoscete questa parola. La parola sghembe, che vi insegnano da piccoli, significa quando hai più di due rete che tra di loro gli assi non coincidono, non sono paralleli. Qua è ancora più difficile. Questa è la situazione vostra, che avete tanti impianti che hanno tutte direzioni diverse. Non puoi unirli tra di loro, a meno che abbiamo anzi due modi di unirli. Se tutto questo esce dalla gengiva. Se io ci avessi, supponiamo, ipotizziamo che questa è la bocca del paziente. Esca un impianto così, uno così e uno così e uno così. Come faccio a unirli? A mettere dei denti che hanno un foro che deve entrare la femmina su questo maschio. Quindi ho questi tipi di impianti. Li consumo, li limo, li limo, perché comunque non sono delle linee, sono grossi, dei pilastri, li consumo. Il problema è lo sforzo dove viene scaricato principalmente? Anche, sì. È già più complesso però sto concetto. Si arriva dopo lì a quello, nel senso che poi la verità anche che l'hanno fatto è per evitare che ci siano tensioni sugli impianti. Per questo hanno cambiato poi le cose. È pieno di tensioni. Ci sono molte tensioni. Oppure c'è un modo, o consumo, supponiamo che il perno qua è bello grosso, ok, vado a consumare questo così, questo lo consumo così. E vedi, già ci entra. Però non è detto che sia proprio parallelo. Anche dal momento in cui li sto consumando a mano, nella bocca. È sempre obliquo. Infatti sono delle protesi molto imprecise che creano problemi agli impianti queste. Come che l'hanno scoperto? Facendole. Che il paziente tornava poi dopo uno o due anni, c'era già recessione ossea, o si rompeva il perno o si rompeva la protesi. Oltre che ho una protesi più debole. Perché se io ho un maschio qua e la protesi di per sé è una femmina che deve avere i vuoti qua dove devono entrare i perni, qua è un punto di minore resistenza dove la protesi si può rompere. Quindi c'è un doppio problema. Il fatto che potrebbe frizionare da qualche parte, oppure che si potrebbe rompere, oppure che dove friziona mi dà delle tensioni all'impianto che spingono l'impianto sull'osso e fanno riassorbire l'osso attorno all'impianto. Perché l'osso l'unica cosa che non regge sono queste tensioni. Allora, che ne so, però è lo stesso motivo per cui tutto ciò che tu premi crea irritazione. Siete mai stati due o tre ore con una cuffia di lana in testa? Quando la togli hai dolore in tutti i capelli, se passi la mano così. Perché stava quel cappello compresso andando a premere sui tessuti che tenevano il pelo, il bulbo. Lo stesso succede nell'osso attorno agli impianti. Tu ci metti una protesi che poi tira gli impianti tutti da una parte all'altra là dove l'impianto batte sull'osso, l'osso si riassorbe. La gengiva va giù e si incastra al cibo. Il cibo si incastra e inizia poi la perimplantite, l'infezione. L'altro modo, questo era un modo, abbiamo detto, di mettere queste protesi sugli impianti. L'altro è taglia la protesi in due pezzi, in tre pezzi e metti quindi dei blocchi sopra due impianti, scomponi il problema complesso. Ma ciò non toglie, non ti mette al riparo dalle tensioni. Allora cosa hanno detto? Scusa un attimo, invece che tagliare la protesi, invece che limmare i denti, eliminiamo il problema. Se il problema sono questi perni che escono da qua, non li mettiamo i perni, queste sono delle viti cilindriche, ok? E mettiamo invece sulle viti cilindriche dei piattelli con differente angolazione, ok? Quindi hanno questo piano, con questo un differente grado, quindi esistono degli snodi che mi vanno a pareggiare tutte le varie inclinazioni e creano un piano sul quale io poggio la protesi. Però è una protesi piena, non è più una protesi cava. Ed è, altra cosa, elimino la colla. Dopo facciamo anche questa considerazione. Se no aggiungiamo troppe cose e poi non si segue il discorso. Il punto qual è? Che se vai a vedere questa protesi c'è molto volume protesico qua, c'è molto spazio, la connessione è molto alta. Se invece avessi fatto uscire dalla gengiva quei perni avrei dovuto creare dentro alla protesi l'alloggio, la femmina per mettere quel perno. Quindi se tu vuoi vedere se ti incolleranno o meno i denti, basta vedere cosa c'è in bocca. Ok? Se in bocca tu vedi che fuoriescono questi perni, stanno preparando per incollare i denti. Gli impianti storti nell'osso, per rispondere alla domanda, in realtà non sono un problema. Gli impianti sono tutti storti, tutti inclinati. Anzi non c'è correlazione tra l'inclinazione dell'impianto e la tenuta dell'impianto. Perché dal momento che io metto dei piattelli, le forze comunque vengono scaricate assialmente, comunque all'impianto, non così. Se invece sì, metto il perno che esce così, allora sì, si crea il momento che fa ruotare l'impianto. Ma se invece io metto questo piattello, no. Ed è il principio per cui i balconi senza pilastri non crollano, ma che hanno sotto delle aste così che poggiano sul muro. Ok? Perché regge questo balcone? Stesso motivo. Perché si scarica la forza inclinata e quindi non... Anzi, si è visto che nella bocca, nei settori posteriori, gli impianti inclinati reggono anche meglio. Per quale motivo? Perché inclinati sono più lunghi. Se invece lo metti dritto è più corto. Tutto lì. Quindi c'è più forza, anche più resistenza alla spinta. Questo è il principio su cui fu poi basato il protocollo all on for, dal quale poi sono derivate tutte le altre costruzioni che si fanno in bocca. Questo ormai più di 25 anni fa è stato creato, questo protocollo. Ed è un'immagine sicuramente questa che avrete visto. Se avete fatto lavori da noi vi sarete informati. Avrete visto che c'è una protesi con delle viti che si poggia su questi piattelli, questi grigi, che a loro volta poi sono avvitati dentro agli impianti dentali. Gli snodi sono questi. Cioè la protesi non poggia direttamente sull'impianto. La protesi è come se fosse la gomma. Quello di mezzo del cerchione. Poi sotto c'è l'impianto dentale che sarebbe il telaio. Io non metto le gomme incollate al telaio. Metto le gomme incastrate, quindi meccanicamente avvitate al cerchio che ha a sua volta meccanicamente bullonato all'asse poi. All'asse che va verso il centro dell'automobile. Perché questo? Perché tutti i denti si rompono o si possono rompere fondamentalmente. Oppure debbono essere cambiati dopo totani. Oppure perché si usurano. Ed è nella norma delle cose che gli oggetti si usurano. Pensate le scarpe, i tacchi delle scarpe. O le scarpe di oggi sono diverse. Anche i denti. Ed è l'usura normale. Quella non è patologico. La schiena mia di oggi non è quella di dieci anni fa. Pensa se avessi ancora oggi le scarpe nuove di tre anni fa. Mi farebbero male i piedi. Invece il corpo si deve adattare. Però in questo ordine di cose, che le cose si adattano nel corpo umano, anche le protesi devono potersi adattare, ma anche poter sostituire. Se io non faccio questo, o, a parte si aprono poi anche delle digressioni sul fatto che si possano o meno mettere tipi di denti e di materiali. Perché quando metto quei perni che escono dalle gengive, non posso usare tutti i materiali. Posso usare solo un tipo di costrutto per fare i denti che sono i vecchi denti in metallo ceramica. I denti che probabilmente tutti avete avuto in bocca. le capsule in metallo ceramica. I cosiddetti circolari. Erano delle simulazioni di denti dove all'interno c'era il metallo e fuori c'era la ceramica. Più o meno lunghi, dipende da quanti denti gli mancano a una persona. Perché sono fatti così queste corone, queste capsule? Perché devono andare sopra un dente che viene limato. Cioè ti limano il dente, poi sopra ti incollano questo cappuccio di metallo che sopra c'ha il vetro fuso che simula il dente. Ma questo ha senso quando hai i tuoi denti naturali. Quando poi hanno inventato gli impianti dentali, hanno detto, vabbè, dobbiamo fare i denti, però invece che sulla radice naturale, limata col nervo dentro, su questa vite. Fai uscire allora dalla gengiva un perno sul quale incolliamo questo dente. Cioè era una... praticamente hanno trasportato nell'implantologia quelli che erano i concetti della protesi sui denti naturali. Poi dopo hanno ragionato, ma così abbiamo problemi quando abbiamo un paziente che ha perduto tutti i denti. Allora fai così, taglia. Ha detto, tanto abbiamo una vite che si può ricavare un alloggio dentro dove si può stringere il bullone. Non è una radice naturale che dentro invece c'ha il nervo e non puoi tu avvitare un bullone su un dente, una vite, perché c'ha un nervo dentro. Quindi nei denti naturali serviva la colla per mettere i denti. Invece con i denti artificiali la colla non serve più. Puoi tranquillamente avvitare sugli impianti le protesi. Questo si è arrivato 25 anni fa a capirlo. Dopo che questo professore Malò in Portogallo aveva inventato il modo di mettere, di fissare le dentiere mobili in bocca dei pazienti poveri che volevano i denti fissi. Allora diceva mettiamo lo stretto indispensabile, quattro gambe al tavolo per stare in piedi e fissiamo questa protesi. Però siccome i materiali erano morbidi, resina, si rompevano, doveva ogni tanto svitarli. Non poteva fare dei lavori di resina duraturi per tre, quattro anni. Ci avrebbe avuto un sacco di denunce. Allora si insegnò su come posso svitare queste gomme a corta percorrenza. Allora ho inventato la chiave di tutto, quali sono stati gli snodi. Questi snodi che andavano in multi unit abattment per eliminare il problema delle rette non parallele, dell'attenzione. Sono praticamente multi unit e alta carpenteria, io dico sempre fare il dentista. Fai viti, bulloni, se ne sai un po' di meccanica, sei un bravo dentista. Questo è il principio, cioè andare a selezionare i gradi differenti di inclinazione a seconda di come esce l'impianto. Infatti quando voi fate le impronte vi avvitano sugli impianti dei perni che escono fuori. Quella impronta si dà al tecnico e il tecnico poi mette il gesso, quando toglie via l'impronta rimangono gli analoghi degli impianti, ovvero le repliche degli impianti che ha in bocca, vengono fuori gli assi. Non li misura il dentista, ma il tecnico dà poi al dentista esattamente gli snodi corretti che servono per mettere sopra questa arcata, questo ferro di cavallo che non crea tensioni. Possibile che rimangono delle tensioni. Cosa fai? Tagli la struttura e la riunisci. Scannerizzi e ne fai un'altra, priva di tensioni. Ok. Non le viti, non i monconi, però le stiamo ancora mai. Perché sono dritti già in... Dipende se hai zone... I perni che escono così, si possono usare questi che escono dritti così durante la fase di guarigione dei tessuti. Per esempio, lei ora ha dei perni che escono dalle gengive. Ma non sono i punti dove si attaccheranno i denti quelli. Non sono i perni sui perni, sono solamente dei tappi che servono a far guarire la gengiva in un certo modo, in modo che poi li svitano, si buttano via quelli e lì c'è il foro pulito dove facciamo l'impronta, dove servono solo a quello. Sono solamente, come dire, delle formine che danno quella forma alla gengiva. Però poi si svitano quelle. Ma nella gengiva, quando te li svitano, tu non vedi nulla. Perché gli impianti stanno dentro. E lì dentro dovrà entrare poi cosa? Questo snodo. Il multiunit è l'ultima cosa che si monta all'ultimo viaggio. Anzi, all'ultimo viaggio, già al primo viaggio. Però molti vengono sostituiti all'ultimo viaggio perché dobbiamo correggere l'inclinazione di alcuni snodi, perché se no il foro della vita esce fuori dal dente. Allora lì si accorge il protesista che è meglio un'inclinazione più interna, così il foro va all'interno invece che vedersi da fuori il buco. Non sempre si può fare, delle volte comunque esce fuori il buco e dipende da quanto era inclinato l'impianto. Ma l'impianto non lo puoi guidare l'inclinazione perché devi stare dentro all'osso. L'osso era riassorbito così, deve andare lì. Il punto qual è? Ragionare sulla meccanica e capire che non ci devono essere tensioni, ma soprattutto colle e non ci devono essere dei costrutti che ti limitano i volumi a disposizione per simulare i denti. Perché se io non ho volume abbastanza dove simulare i denti, perché ho questi elementi che mi interrompono questo volume, ho alta probabilità poi di non poter fare le cose come voglio. Altra cosa che ho capito tardi io questa, non c'ero mai arrivato a questo. Non capivo il vero lì sinché non ho visto le cose in bocca al paziente. Che mettevo l'arcata in bocca era troppo piccola, i denti erano troppo piccoli. E qua arriviamo verso la seconda parte della lezione che è quella più importante, che fa veramente tutta la differenza. Cioè la colla non è un vero problema, è un finto problema. No, cioè è un problema perché se si scioglie ci va la saliva con i batteri lì dentro dove c'era il cemento e ti si infiammano gli impianti. Però se la colla si scioglie, i denti si staccano, li riattacchi e quindi non ti crea grossi problemi se non andare sempre al dentista a rincollare questi denti. Oppure il problema è che se li devi togliere c'è il cemento definitivo e quelli non vengono via. Vi hanno mai smartellati i denti dalla bocca? Perché c'era il cemento che doveva essere rotto e sfilata la capsula. Se va bene e si stacca il cemento. Se va male ti viene la radice in mano e hai fatto l'estrazione al paziente. Oppure si rompe il dente proprio come tu lo stavi smartellando. Meccanicamente si rompe o si scheggia la capsula, ti salta la capsula per terra e si rompe, si scheggia. Non è una procedura corretta quella di smartellare i denti dalla bocca del paziente sugli impianti. Sulla radice naturale purtroppo non c'è altro modo perché non puoi avvitare le capsule sulle radici naturali. La grande grande differenza tra il fare i denti che si incollano sugli impianti e mettere i denti invece avvitati sugli impianti è il dove alla fine vanno a finire i denti. Perché se io ciò, però ve lo devo disegnare questo per capirlo, dobbiamo partire dal come è fatto l'osso nella nostra bocca, quindi la mascella superiore e anche quella inferiore. Se io ho un box a cui manca per esempio una parete, questa gli manca, se io metto qua della polverina, del cemento liquido, metto qua una, come dire, una tavola di legno, aspetto quello indurisce. Se mi mancano due pareti è un po' più rischioso, ma se mi mancano tre pareti oppure quattro pareti, cemento c'è il rischio che magari anche indurisce quello, però poi come tolgo le tavole si stacca da qua, capisci? E ciò praticamente, tieni conto poi che da queste pareti arriva il nutrimento, i vasi sanguigni, più pareti ciò e più ciò parti dove che irrorano di sangue e nutrimento l'innesto. Ma questo lo parliamo di quando sono gli impianti gegomanti? No, questo negli innesti di osso, mi diceva si può ricostruire l'osso lì per mettere gli impianti in maniera corretta, non si può ricostruire, perché quando lo riperdi dovresti praticamente mettere un innesto che non ha pareti che lo tengono, che lo tiene quell'innesto. L'unico modo, l'unico innesti che vanno la meglio sono i rialzi di seno macellare, quando ricostruisci il seno macellare, perché quello è una cavità, apri una bottola, metti dentro e ho tutte le pareti che gli danno nutrimento, e allora è più semplice. Questo per dirvi cosa ci siamo perduti, che c'è il modo di fare i denti, farli andare nel posto giusto, anche se c'ho gli impianti a sassari, i denti devono stare a Roma. Cosa faccio? Semplice, Malò aveva visto anche questo problema, perché lui metteva i denti ai poveri che avevano la dentiera, i poveri che avevano la dentiera da anni non avevano più l'osso, quindi simulava sempre la gengiva, e se in più rimaneva osso, lo tagliava, perché sapeva che quell'osso si sarebbe perduto poi negli anni. E non da evitare di avere poi il problema che si crea spazio, eccetera, taglia tutto quello che non serve, che tanto sai che si perde. Se io ti metto un impianto qui e uno qua, lui ne metteva solo quattro, c'erano diversi centimetri tra un impianto e l'altro. Qua l'osso rimaneva, ma qui si abbassava, e si creava, qua c'erano i denti, si creava spazio dove si incastrava cibo. Invece, se noi mettiamo più impianti, teniamo anche l'osso trofico, cioè più mineralizzato, perché funziona quell'osso, viene sollecitato. Se però i denti, cambiamo, supponiamo che la gengiva è qui sotto, ok? Questi sono gli impianti, ma la gengiva, lo rifaccio bene questo disegno, se non lo capisco solo io, se io ho questa gengiva, gli impianti qua, ne metto quattro, gli metto anche due impianti zigomatici, ne faccio partire da qui, gli impianti zigomatici, uno e due, che sono degli impianti che stanno in zone diverse dell'osso, in realtà l'impianto è questo. Questi sono avvitati qua nell'osso, i denti però devono arrivare qua, qua giù. Se faccio uscire dei perni dritti che arrivano sui denti, posso anche fare questo, avrò però i denti che poi hanno questo asse. E capita spesso di vedere in queste cliniche che fanno queste cose qua, denti che hanno questa inclinazione, perché l'inclinazione errata va a dare degli, vedi questi sono tutti i perni sui quali poi vengono incollati i denti, questa inclinazione errata da poi dell'inclinazione ai denti errate. Però qua non c'è una foto che fanno al caso. Ma lo cosa pensò? Semplicemente togliamo questo problema, mettiamo un piattello che mi risolve il problema delle divergenze tra tutti gli impianti. Su questo piattello, invece che mettere subito i denti, mettiamo una barra di metallo che unisce tutti questi piattelli e che poi ha dei perni lunghi che entrano dentro tutti i vari singoli denti. Questa era la cosa più logica da fare. Cioè mettere i denti lì dove devono andare nel sorriso, gli impianti lì dove devono andare nell'osso, separo i problemi, le cose che non tornano, cioè l'ampiezza di questa arcata nel sorriso con l'ampiezza dell'arco che si crea se unisco tutti questi impianti, andando a colmare il gap con una struttura di transizione che va dagli impianti ai denti, dove devono andare. È una sciocchezza. Però se tu li fai incollati questo non lo puoi fare. E quindi hai che i denti, invece di avere questi assi di inclinazione convergenti verso il centro, un sorriso, in realtà i denti hanno questo asse, i canini sono così, non sono così, lo puoi fare questo se hai una protesi che va a avere dentro una struttura che regge i denti. E questo c'era qua in queste immagini. Si vedeva bene qua. Vedi questa è la struttura centrale che regge i denti. C'è una... si vede lì nel monitor pure. C'è i piattelli qua che si attaccano agli impianti e poi qua c'è i perni sui quali si infiliano i denti, che possono essere poi più o meno grosse queste strutture, possono essere con più materiali in mezzo. L'importante è che capite la logica di separare i denti dagli impianti. Questo è quello che viene dato qui. Sì. Perché facciamo questo? Perché così possiamo, se si hanno problemi ai denti, svitare la protesi e sostituire il dente. Non dobbiamo smartellare dagli impianti la protesi e non abbiamo il paziente che gli si scioglie il cemento negli anni in bocca. Oppure non abbiamo tensioni sugli impianti, oppure inestetismi, che il paziente sorride e i denti sono piccoli così, qua. Sono tutti in centro alla bocca, non vanno nelle zone profonde. Su tutti i tipi di protesi. Tutti, tutti. Tutti. Sono concetti questi interprotesi. Cambiano i materiali di cui è fatta la protesi, ma non cambia il fatto che uso gomma, cerchione e bulloni. Poi posso usare le gomme da neve, le gomme da asfalto, da corsa. La logica è la stessa, che la gomma deve essere separabile, che la ruota deve essere sbullonabile. Dicono che riuscite a dire Mississippi. Eh, quello sempre. Mississippi è utilizza la stessa. Anche sassari, si può dire. Questi sono denti in resina. Denti in resina che al loro interno hanno la barra che entrerà, in questo caso, più sottile, una linea premium. La linea premium ha dei perni più sottili che entrano dentro, perché dobbiamo usare dei denti più grossi, perché usiamo un materiale più morbido. Per essere più resistente deve aumentare lo spessore di quel materiale. Nella linea basic, per esempio, abbiamo una barra, invece in quel caso lineare, dove dentro, dove sopra questa barra, proprio un ferro di cavallo, si incastra i denti fatti col robot, con la stampante, che vanno a incastra, a chiavistello, sopra. E poi si crea la gengiva. Però il principio è sempre che c'è una struttura metallica che unisce gli impianti tra loro. E la struttura metallica va messa subito quella, perché quando metto gli impianti nell'osso è come se io facessi una frattura, devi comunque mettere il gesso, se no l'impianto non si integra. Cioè se tu non metti il gesso e ti rompi un braccio, le ossa non si saldano. Nel braccio metti il gesso, in bocca devi mettere un ferro di cavallo che unisce gli impianti quando li hai avvitati nell'osso, altrimenti quelli non si integrano. Guarda, ecco qua si vede bene. Vedi questa è la barra che unisce gli impianti. Questo è il principio dell'ingessare un braccio, cioè metti le viti nell'osso fresco. Prima che gli impianti siano integrati con l'osso, ci vuole il tempo di una frattura, un mese, due mesi. Poi dipende dall'età del paziente. Il paziente di 20 anni si integra... Vedi come si crea praticamente il negativo, dove dentro ci sarà la barra, e quello poi reggerà i denti. Questo reggerà i denti, cioè le forme. Però queste vengono fatte tutte col computer. Queste forme sono fatte col computer, prodotte da delle stampanti, e quindi sono replicabili, vengono progettati i denti dove devono andare, col computer, e in base a quello poi viene fuori il disegno della barra. Ormai non si fa quasi più nulla a mano. Si fa tutto con le stampanti. Grazie. Grazie.